Cosa è? Ahahahah Ahahahah Non ti amare Che fazione Tutto ciò che compra Perché soddisfare i clienti più esistenti Amore, così? Che cosa è? Siamo incinti? Mi tremano le mani Siamo incinti Sono felice Ma sei sicura che sono felice? Sei affidabile? Eeeh Scusa Cos'è? Tu vuoi fare il canale nella mia gioia così? Però Attento, potessi, ma sono felice E tu pensi che lo sai Ma funziona? Sì Ho una voglia Ma non posso però il calcino Però però voglio che Non posso fare a meno Ho bisogno delle fragole A dicembre? Ma cosa c'è? Siamo andando in Australia a trovare le fragole Ma lei non lo sa che è dicembre Ma io lo diciamo No 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 Le fragole Le fragole Le fragole Le fragole Le fragole Le fragole E' un po' di nausea Le fragole Le fragole Le fragole Le fragole Lo so Scalderei Scalderei Le fragole okrat Invece Le fragole Senderamme Spagliare La fragole Strad Families Tu dormi, io no! Amore, pensavo, no? Qua bisogna organizzare tutta la casa Qua bisogna organizzare tutta la casa Ma dormi, io parlo Sai amore, in questo periodo sto facendo delle considerazioni importanti Ma secondo te noi saremo dei bravi genitori? Perché non è facile essere un bravo genitore Soprattutto ai genitori, si nasce o si diventa? Eh? Perché comunque ruolo educativo non è una cosa Da prendere sotto gambe, eh? No, no E tu sei l'uomo giusto per me Ecco, vedi già queste cose che non sei L'uomo giusto per me Lo sapevo, lo sapevo